Bene, abbiamo parlato della verosimile riapertura del Mandilion a Costantinopoli, riapertura questa che avrebbe ispirato attorno al XII secolo tanto l'apparizione del tipo iconografico dell'Imago Pietatis quanto del tipo iconografico dell'Epidaphios. Ora, tra le numerose rappresentazioni che potremmo osservare su cui continuare a sviluppare il nostro tema, riteniamo interessante scrutare il manoscritto Prai di Budapest che risale al 1192-1195. In tale miniatura i richiami alla sindone sono assai numerosi. L'immagine del corpo di Cristo nella sequenza in alto è riprodotta con particolari decisamente ispirati alla sindone. Ci basti notare come il rivolo di sangue sulla fronte, visibile sulla sindone, sia simile al segno sulla fronte dell'immagine sul manoscritto. Così come le mani incrociate sull'addome, con i pollici piegati verso la palma, visibili sulla sindone, siano simili alla rappresentazione delle mani dell'immagine sul manoscritto. Anche la sequenza in cui l'angelo mostra la sindone vuota alle donne, poi, è riprodotta con particolari decisamente ispirati alla sindone. Ci basti notare come le cosiddette bruciature a L visibili sulla sindone siano simili ai puntini posizionati a forma proprio di L presenti nell'immagine sul manoscritto. Interessante osservare ancora questa vetrata della cattedrale di Chartres, Francia, XIII secolo. Si nota il crocifisso dal volto chiaramente sindonico. Anche la cosiddetta curva bizantina presente in tale crocifisso, ovvero la posizione ondulata del Cristo crocifisso all'altezza del bacino, deriverebbe dall'osservazione della sindone. Osservando il sacro lino, in vero, l'uomo della sindone, a causa del rigor mortis, sembra avere la gamba sinistra più corta di quella destra. È presumibile che gli artisti, reputando tale particolare visione sindonica come evidente segno di una zoppia di Gesù, il cosiddetto Cristo Zoppo, diedero una curva al bacino dei crocifissi, affinché i piedi del Cristo fossero inchiodati alla stessa altezza. Su un'altra vetrata della cattedrale di Chartres, poi, è presente anche una deposizione di Cristo. Anche tale rappresentazione sembra decisamente ispirata proprio alla sindone.